Musica Ok, salve a tutti e bentornati in questo nuovo video Oggi vi mostro quanto è forte sto scudo, è molto resistente, anche contro i boss Ora proviamo un attimo questi cosi qua che si credono di essere forti Guardate là, guardate, guardate No ma è buonissimo, anche contro cavallieri a cavallo, ma sto scudo è buonissimo Quindi oggi vi spiego anche dove trovare questo magnifico scudo Ha anche una bella skin sopra, veramente molto bella, la skin dell'albero L'albero, è già Allora il posto è quella zona, quindi ragazzi dovete fare moltissima strada Io ho ancora altri punti da esplorare, però si trova in questa zona Adesso vi porto là, direttamente Scendete da questa parte, mi raccomando fate attenzione a sti cosi Dall'aspetto Sì, sembrano scarsi, ma ragazzi veramente questi cosi fanno paura Fanno paura E sono anche velocissimi a correre Sentite un po' che suono fanno È inquietante Ok, si trova in queste rovine Io non ricordo molto bene dove esattamente, però si trova in queste rovine Qui troverete anche un dungeon Quindi all'interno di questo dungeon Troverete anche, non mi ricordo molto bene Ma ho una spada o qualche talismano qua sotto Non ci fate caso sti cosi Allora, si trova esattamente qua Questo è il posto Sì, 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 questo è il posto È questo Qui troverete qualche incantissimo E anche uno scudo Come quello che ho sulle spalle Quindi ragazzi è fatta Avete trovato lo scudo Questo scudo è veramente bellissimo Anche leggero, ve lo devo dire È molto leggero sto scudo È molto resistente Quindi, grazie a tutti per questa visione Ragazzi, e noi ci vediamo ad un prossimo video Ciao